La mia è una gestione mirata a non guardare solo oggi, ma a guardare anche il domani. E quindi io rifarei di tutto. È chiaro che adesso ci sono alcune situazioni in cui qualcuno deve anche un attimino ritrovare lucidità, ma la cosa importante, e qui mi ripeto, preferisco prendermi io le responsabilità che dei miei giocatori. Io voglio proteggere la squadra da questo ed è il mio compito. Adesso è importante che noi, al di là di eventuali cambi, ma che ci sia la mentalità e la compattezza che c'è stata fino adesso e che deve continuare ad esserci del gruppo nell'andare alla ricerca di toglierci da questa situazione qua. Se noi abbiamo paura di subir gol andiamo indietro. Se noi abbiamo paura di prendere gol siamo passivi nell'atteggiamento mentale. Questa è una squadra che non può dividersi in due. È una squadra che sa di essere forte in attacco e attacca, è una squadra che in questo momento ha paura di prendere gol e va indietro, perché altrimenti ci allunghiamo, creiamo degli spazi. Per me questi sono veramente i migliori giocatori che c'è. Io, l'ho detto prima, proteggerò con tutto me stesso la squadra. È un organico che, secondo me, può far bene. Dobbiamo assolutamente noi, è un organico nuovo. Ma mi dispiace dire questo in questo momento, perché sembra che io come allenatore voglia trovare degli alibi. Io mi dico sempre questo, o vinco o imparo. Cosa vuol dire? Che in questo momento devo trovare le risorse e devo trovare la condizione per crearmi, fortificarmi da queste difficoltà che stiamo passando. Questa, per questa squadra, può essere un'opportunità di crescita. Ci dobbiamo dare una bella svegliata.